Salvatore Romeo, siamo arrivati alla terza edizione del premio di ricerca a Sebastiano Romeo, ancora una volta nel segno dell'eccellenza e con una qualificatissima rappresentanza di concorrente. Sì, quest'anno abbiamo avuto in particolare cinque concorrenti con delle proposte molto qualificate, non soltanto Cugliesi ma abbiamo avuto per esempio anche un concorrente francese, quindi insomma un ventaglio molto ampio, una commissione anche scientifica molto qualificata che ha preso secondo me un'ottima decisione. Il vincitore, lo possiamo ormai dire, è Antonio Bonatesta che è un giovane ricercatore salentino che lavora all'Istituto Universitario Europeo, quindi anche lui un'eccellenza del nostro territorio, con una tesi, con un libro molto interessante che parla del nostro territorio in un'ottica europea e del contributo che la classe dirigente pugliese ha dato alla costruzione dell'Unione Europea, quindi è un tema anche estremamente attuale e estremamente interessante da discutere. Quali saranno i progetti e le prospettive future di questo premio? Qual è il desiderio da accogliere? Beh, noi cerchiamo di fare un passo alla volta ovviamente, questo è un piccolo premio che però poco alla volta sta crescendo, comunque siamo giunti alla terza edizione, non era per nulla scontato quando abbiamo iniziato. Cercheremo di estendere ancora di più la partecipazione e anche le tematiche in modo che possano partecipare anche più persone, e questo è l'obiettivo però fondamentale, quello di contribuire al lavoro di ricerca di giovani impegnati negli studi storici e storico-artistici, questa per noi è la cosa più importante.